Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui con Essence, l'azienda con cui io collaboro e oggi vi voglio presentare una sua linea, una delle tante linee, la Home Pharmacy. Oggi partiamo con un prodotto che è la vitamina C, vitamina C pura e naturale. Grazie alla qualità degli ingredienti, dell'alta tecnologia utilizzata per la sua produzione, supera di gran lunga prodotti similari che abbiamo sul mercato. La micronizzazione facilita un rapido assorbimento, contiene dolcificante naturale, estratti di liquirizia e di fragola. La forma peculiare della vitamina C Essence garantisce la protezione dei denti e delle mucose dell'apparato digerente dalla vitamina altrimenti che sarebbe acida. La vitamina C aiuta a mantenere l'ottimale funzionamento del sistema immunitario durante e dopo un'intensa attività fisica, contribuisce alla normale produzione di collagene per il corretto funzionamento dei vasi sanguigni, delle ossa, delle gengive, della pelle, favorisce una corretta funzione metabolica, aiuta il funzionamento del sistema nervoso e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, aiuta a ridurre i segni di stanchezza e di affaticamento. Ma qual è la dose raccomandata? La dose raccomandata è di una barra due compresse al giorno da sciogliere in bocca. Non superiamo la dose, è la quantità necessaria. Oggi vi ho parlato della vitamina C Essence. Alla prossima!